a guato nel quartiere tamburi a taranto in piazza masaccio angolo via foscolo stando a quanto si apprende un giovane 23enne mentre era a piedi sarebbe stato avvicinato da un'auto dalla quale sarebbe partito un colpo di pistola sul posto gli agenti della sezione scientifica della polizia di stato in strada è stato trovato al momento un solo bossolo si indaga per far puce sull'accaduto